Per quanto il titolo possa sembrare controverso, sembra che possa diventare realtà. Il governo francese ha affermato. Abbiamo raggiunto un punto in cui potremo potenzialmente manipolare il DNA delle persone per creare una razza con molta più forza, resistenza e altro, proprio come facciamo con gli animali. Tutti sono concentrati su ciò che potrebbe accadere tra 30 anni, dopo altri 10 anni di sviluppo e sperimentazione. Delle parole davvero sorprendenti. La Società Internazionale dell'Etica Militare ha persino già creato un nome specifico per questa nuova specie di soldati, Homo Robocopus. Immaginiamo questi soldati come degli uomini bionici, forse, con la capacità di correre veloce, bere e mangiare meno di un soldato normale, in grado di evitare di sentir la stanchezza, quindi sempre pronti a combattere. Capacità fisiche, cognitive, percettive, psicologiche, aumentate, vuol dire soltanto una cosa, guai. Uno scenario a mio parere inquietante, quello che si andrà a vedere in futuro.